L'avvistamento di un branco di lupi vi ha messo in allerta, lei dove li ha visti? Io li ho visti in campo qui prima di Fenile, che attraversavano il campo, li ho visti bene perché erano in campo che non c'era niente, pulito, quindi li ho visti a 300 metri, erano tutti molto grossi, come posso dire? E ha cominciato ad avvisare i vicini? Sì, ho avvisato i vicini, sono andato anche per strada ad avvisare la gente che passeggiava con i cagnolini o camminava semplicemente che qui in queste stradine c'è molta gente che passeggia e ho avvisato la gente che c'era questo pericolo perché un branco così è pericoloso, si attacca i cani, le persone, insomma mi sono reso conto che era il momento di avvisare la gente. Una volta era così? No, no, non c'era, i lupi qua non c'erano, sono 10-15 anni che ci sono questi lupi, se no prima non esisteva il lupo qua, proprio non si è mai visto da queste parti. Giannino, lei ha subito diversi attacchi anche in quest'ultimo periodo da parte dei lupi? Infatti l'ultimo è stato un mesetto e mezzo fa, mi sono entrati dentro il recinto che già c'è la rete alta 1,80 con la sporgenza di fuori, antilupo, sono entrati dentro e mi hanno massato 38 ocche da 8 chili, in due anni mi hanno fatto più di 10.000 euro di danno, io non so più come sostenere questa cosa. Questi ambientalisti che vedono questi danni, bisogna che pagano a tasche loro o vengono su con i soldi e mi pagano, poi dopo tutto questo, dopo il danno c'è anche la beffa, tocca pagare anche per il smaltimento di queste carcazze. E dopo quello in tre volte mi ha costato quasi 800 euro per smaltirli, non sappiamo più dove rivolgersi. Andrea lei qua ha anche dei cavalli, ora è preoccupato? Sì, io abbastanza perché sentendo in giro che comunque anche le recinzioni non sono abbastanza sicure, io ho recintato, io produco dei cavalli per noi, per casa, però avendo anche adesso un puledro che è appena nato lo dovrò far uscire, ma sapendo che un branco di 9 lupi me lo porti via, sinceramente, non è che proprio mi fa stare sereno. Quale potrebbe essere la soluzione? Capire, secondo me, anche fare un censimento di questi lupi, quanti sono in questo territorio? Perché inizialmente erano due, ieri sotto casa mia a 200 metri ce ne erano nove. C'è un ente preposto che segue un monitoraggio, un censimento di questi animali? Cioè, per il territorio che sono un po' troppi forse, toccherà intervenire, forse catturarli, portarli nel loro abitato un po' più naturale, perché qui siamo a 500 metri dal mare, non siamo in alta montagna, bisogna intervenire prima che succeda qualcosa, perché tanto così, secondo me, prima o poi succede qualcosa. Grazie.